Allora mister, è una salvezza meritatissima, ha fatto un miracolo, eravate ultimi in classifica, ecco quanto c'è di Bionzi? No, quanto c'è di Bionzi? Mertani ragazzi, assolutamente tutto dei ragazzi, sette punti nel girone di andata, non potevamo fare, che è un miracolo, l'abbiamo fatto, complimenti ai ragazzi. Ecco, quanto ha capito di crederci più che altro questa salvezza, quando l'ha capito? No, l'ho capito, i ragazzi hanno lavorato sempre alla grande, da quando sono arrivato la squadra era già preparata bene, complimenti anche a mister Sardo che ha fatto un buonissimo lavoro anche lui, purtroppo poi le cose succedono, hanno dovuto cambiare, hanno voluto cambiare, abbiamo continuato il lavoro che aveva fatto lui, ci siamo salvati meritatamente, l'abbiamo dimostrato anche oggi, grande partita, meritò la stessa stessa che ha fatto un grande campionato, purtroppo uno dei due oggi deve essere deluso. Ha una dedica speciale? Una dedica speciale al cereale. Ciao, grazie.